Presso l'ex tabacchificio Centola di Ponte Cagnano-Faiano ha preso il via la festa regionale dell'unità organizzata dai vertici della Federazione Regionale Provinciale e dal circolo locale del Partito Democratico con il segretario Roberto Brusa. È prevista la partecipazione di esponenti del partito a tutti i livelli, fra questi il capogruppo alla Camera dei Deputati Ettore Rosato e il presidente del partito Matteo Orfini e l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti.